musica grande contropiede bravissimo Francesco Cocco bravissimo Francesco Cocco e siamo 2 a 0 e l'Inter passa il turno a questo punto lo posso dire e a questo punto possiamo dirlo tranquillamente 3 minuti dice il quarto uomo di recupero ormai è fatta è fatta, è fatta, è fatta meritatamente con le nostre gambine vincendo qua 2 a 0 andiamo a chiudere il girone a quota 11 qualificati correttamente e l'Inter passa ai quarti di finale poi adesso gara dentro o fuori andate a ritorno, chi ci capita ci capita